Lavoro, opportunità per tutti e dovunque, mercato, cambiamento, visione, ricerca, passione, movimento, libertà, incontro, democrazia, meritocrazia, apertura, sentimento, giovani, talento, scelta, Italia, Europa, mondo, mobilità, trasversalità, pensiero, coaching, orizzontalità, competenze, partecipazione, iniziative, start-up, inclusione, talenti, sviluppo, sostenibilità, occupazione, presente, futuro. Fra, ma che cosa è il futuro? Guardati, il futuro sei tu. Vi aspetto il 6 novembre presso gli studi televisivi di PubliVideo alle 17 in via Luciano Manara 6 a Bologna oppure nel mondo di streaming. dove i giovani loro tenenti dal 6 novembre saranno al centro di una nuova rivoluzione copernica per guardare con gli occhi il loro futuro. Io sono Francesco Magliegano. Lei è il futuro. Lei è il futuro. Ciao. La mia gente è il directorsità per guardare con grazie. 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 Grazie a tutti.